Nel salotto di Jenny, giovane e bella vedova, compare un raggio di luce che contiene un neonato. Sotto gli occhi della donna, il poppante, in pochi secondi, si trasforma in bambino, in ragazzo e poi in uomo fatto. L'alieno venuto dalle stelle è la copia esatta del suo defunto marito. L'extraterrestre coinvolge Jenny in una corsa contro il tempo deve ricongiungersi alla sua gente in una località segreta dell'Arizona entro 72 ore, altrimenti morirà. La donna, innamorata di quel ricordo vivente, accetta.